E dopo singolo? Beh, qui posso fare i nomi perché comunque sono strafamosi e non sono gruppi ma sono proprio dei singoli, no? Allora, Casa Surazze, anche se mi piaceva molto di più una volta, e oddio come cavolo si chiama? Come faccio a dimenticarmi? Dai, quello dove c'è Ciro, Fru, ma è bellissimo, che cos'è questa felicità immotivata? Ma porca misi, dai cos'è? I Jackal, i Jackal, no, li adoro, cioè quella è arte ragazzo, veramente, fan di quei video, sia a livello comico-demenziale che sia a livello artistico, pazzeschi, pazzeschi, incomparabili a chiunque altro, veramente. Poi guardo anche, beh, bravissimo, il mio amico Claudio, Minimad, che lo saluto, ciao Claudio, andate a vedere il canale di Claudio, Minimad. E poi, beh, ovviamente, come tutti, questa è una grandissima risorsa dell'internet, i tutorial. Tu al giorno d'oggi, su YouTube, una volta su internet, sui siti, adesso si guarda sempre su YouTube perché è più immediato, puoi anche ascoltarlo senza guardarlo, dal telefonino, hai capito? Intanto fai le tue cose. E i tutorial, cioè, trovi veramente di tutto, cioè, da come far esplodere la Coca-Cola con le Mentos alle cose un po' meno utili, tipo i programmi di lavoro del Mac, o come cambiare parti di motore, eccetera, eccetera, capisci? Quindi quelli sono gli immancabili. E poi basta, cioè, non guardo neanche video musicali, non guardo la TV, quindi niente telefilm, telegiornali, meno che meno, quindi, no, quello. Candid Camera in primis per questo discorso socio-scientifico che ti ho fatto. E poi, beh, ti ho detto, i Jackal a casa su razza e i Minimad ci vuole. Beh, scusa Claudio se ti ho messo per terzo, ma è per lasciare un po' lo spazio, no, alla ciliegina sulla torta, dai. Ah, nei Minimad trovi anche la topa della Chicca, che è la ragazza, quella bionda, quindi, ciao Chicca! Beh, ciao anche a tutti gli altri, ovviamente, cioè, scontato. Chissà se un giorno farò un video con Claudio, ma non credo che siete a Roma, Claudio. Quindi dovrei imparare romano. Saga un misciotto di tutti i mediaetti qua, del nord-est, ovest, Italia, figurete. No, 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 fermo, fermo, aggiungiamo, aggiungiamo. In questo periodo l'ho scoperto da pochissimo. Se io ho guardato anche gli youtuber famosi, quelli che fanno tante visualizzazioni, eccetera, mi viene da piangere, mi viene da dire, povera Italia. Però c'è questo youtuber che mi sta simpaticissimo, questo si chiama Yakidale, che intanto fa i video sinceri, ok? Potrà essere bravo, magari, quando fai i vlog, ok? L'inquadratura giusta, le luci, la bella ambientazione e tutto, ok? Però quando fa le sue cazzate, tipo quando ha costruito lo schello, il divano motorizzato con gli skateboard elettrici e tutte quelle robe là, lo vedi che lui è là a divertirsi e fa le riprese proprio alla cazzo, con la macchinetta che inquadra. Perché è così, ti dico, chi fa video sa che o fai il video o vivi e ti diverti. Quindi, hai capito? E lui veramente mi... Anche tanta fantasia, tipo hanno mandato, cos'è, un modellino di panda, hanno fatto una mongolfiera con l'elio, l'hanno mandata su con le telecamere, ma tanta altra roba, fa, si è elaborato il monopattino elettrico, allora l'ha smontato tutto, gli ha messo le ruote più grandi, tutti i led sotto, l'ha rivernizzato. Cioè, ha tanta fantasia e anche tanto simpatico, perché a volte, vedi, simpatico, la parola simpatico, no? Uno magari può pensare, come ci hanno abituato, che è uno che fa ridere, no? In realtà no, una persona simpatica è una che crea questa sorta di collegamento, di empatia con te, tipo, io ho simpatia, faccio un esempio, con tantissimi, ok, con Michele e tutti quanti, ma ad esempio, per quanto riguarda il parlare comico, tra virgolette, io ho molta simpatia con Fabio, che a volte, questo Fabio, non dice nulla, Fabio è quello che vi vedi spesso nei video, non dice nulla di divertente, cioè che fa ridere, però, ad esempio, quella volta che eravamo nel sottopasso, in camper con Michele, c'era Michele che aveva la febbre, quindi non capiva niente, perché aveva la febbre altissima, e aveva paura di toccare il tetto, no? Allora, Michele è tutto in panico, e Fabio, con questa sua voce, qua, gli fa a Michele tutto tranquillo, calmo, Michele, siamo passati? Cioè, siamo passati? Ma gliel'ha detto proprio con tono e con modo, vedi, non fa ridere la cosa, però l'ha detta con modo, che veramente, ecco, è come se ti divertisse, non so se mi spiego, non so se rendo. E anche sto, Jack Idale, è anche lui, cioè, io provo questa grandissima simpatia, per questo ragazzo, ragazzino, insomma, che anche questo suo saluto, io avevo una volta, no? Il buongiorno d'Italia, buongiorno un caso, l'ho un attimo messo a parte, perché, ripeto, purtroppo da una parte, e per fortuna dall'altra, ci sono tantissimi bambini che ci seguono, e quindi, ragazzi, devo stare anche attento a volte. Anche se, aspetta, tra parentesi veloce, genitori, magari prima guardate voi il video del singano, e dopo decidete se farlo vedere ai bambini, cioè, non guardate il video del singano coi bambini che dopo te senti ta sboro e cazzo cuo figatete, no? E comunque, dicevo, che io avevo sta, diciamo, sigla, icona di sta roba qua, e Jack Idale ha il salve. Salve non è niente, lo dicono tutti, però lui lo dice con un tono, un modo, e anche una velocità, che veramente ti crea questa simpatia divertente. Poi inizia a parlare, sto tosato, anche magari a volte composto, però fa tante di quelle cazzate, che ti dico a me, a me piace, perché la vita non è seguire quello che ti fanno credere, essere libertà, essere bello, eccetera. La vita, e la vera libertà, è far quel cazzo che vuoi. Quindi, se singano, che vive in camper, preferisce guardarsi gli Akidale o i Minimad, eccetera, perché deve seguire altri che fanno i travel vlogger oppure che fanno in full timer, eccetera, eccetera. Ognuno ha i su gusti, insomma. I travel vlogger americani, credo che li ho visti, scusa se menziono gli americani, è che sono, credo, i più bravi, perché io ho visto che sono tutti americani. Però, ho visto un video, li hai visti tutti, cioè, la solita riprese strafantastiche, posti caraibici, tutto studiato, tutti felici, spensierati, che non è vero, una madonna, nel senso che come persone senz'altro si divertono ad andare in giro, sono spensierati, eccetera, ma non quando fanno quei tipi di video, te lo assicuro, te lo assicuro. Già a fare la fotografia c'è un'arte e una scienza dietro, figurati a fare i video. Cioè, fatti come li fanno loro, intendo. E tutti uguali, sempre anche le solite scene, i tuffi dalla scogliera, nel mare caraibico, e il tipo là nella punta della montagna che guarda il burrone, cioè, con lo stampino, tutti quanti, veramente. Cioè, guardato uno, li hai veramente guardati tutti. Quindi, l'unica, diciamo, eccezione che guardo, ma solo per prendere, neanche ispirazione, perché dopo comunque io continuo a fare i video alla casso, ma come si può dire, per apprezzare un po' la qualità audio-video, no, l'arte, l'inventiva, oh Dio, perché mi dimentico le robe, dai, è il travel vlogger più famoso al mondo, che non è famoso per essere un travel vlogger, perché, cioè, chiunque è un travel vlogger, tico, te vai in vacanza, ti porti la macchina fotografica, o fai le foto col telefonino, e te che fa veda, a tu sia, a tonona, sei un travel vlogger anche tu, scusami. Lui è un videomaker, è il videomaker più bravo e famoso del mondo, talmente famoso che io non mi ricordo il nome, fermo, fermo, Sam Kolder, Sam Kolder con la K, vai a vedere i suoi video, prendi paura. Altri video bellissimi, è veramente bravo il tipo che gli fa i video, è quel tipo, che questo no, assolutamente non mi ricordo il nome, che fa le acrobazie in mountain bike, tipo i salti nelle gradinate delle città, ma salti di decine di metri, cioè, è pazzo questo, cioè, pazzo, ma bravissimo di quelle robe pazzesche, riprese pazzesche, però anche lì hai visto uno, li hai visti tutti, già sono tutti uguali, hai capito? Quindi, scelgo la comicità, insomma, Italia, hai capito? Io scelgo solo la comicità, tutti i miei video che io guardo, tutti i canali a cui sono iscritto, sono solo canali comici. Perché? E attenzione, perché se uno ti dice che segue solo canali comici, non significa che quella persona è molto, diciamo, leggera, frivola, no? Ma, significa che quella persona può aver capito uno degli ingredienti che servono a dar fuoco alla felicità, alla vita, al tuo io. In fondo, tutto quello per cui noi lavoriamo, ci sbattiamo, progettiamo, eccetera, per cos'è? Non è forse per la felicità e la serenità, che sono due cose che adesso non vorrei dire tassativamente, però in teoria dovrebbero andare a braccetto, dovrebbero essere sincronizzate, no? Felicità e serenità, no? Quindi, cos'è la risata? Cosa ti dà la risata? Chi ti fa venire la risata? Le barzellette, le cazzate, le robe stupide, la comicità, quindi, attenzione, pesa queste parole, cioè, ripeto, quando segui il singano ci vuole sempre la mentalità molto aperta, perché io non posso spiegarti una cosa senza farti 50.000 ore di filippica per spiegarti tutto quello che ci va dietro, quindi, arrivaci anche tu, non può essere che singano ti viene a dire uno per vivere bene deve nella vita guardare solo video comici, assolutamente no, c'è questo equilibrio, ovviamente c'è anche la filosofia, la psicologia, tutti i libri che si legge e singano, insomma, voglio dire, però, nonostante ciò, eccolo lì il punto, ritorniamo su questo equilibrio che ti ho detto, non sarebbe una bella vita vivere sempre e solo e leggendo libri di filosofia e psicologia che poi psicologia e filosofia è un po' la stessa cosa, dopo avete l'ho spiegato tante volte, termine filosofia già dei tempi di Socrate era stato storpiato, in realtà filosofia significa pensare, ragionare da soli, creare nuovi pensieri, cose intelligenti, cose serie, non cazzate, inutili, buttate per aria, ok? Quella è la filosofia. Contemporariamente non puoi neanche vivere solo di frivolezze, di cazzate, star là sempre in briago a parlare del nulla, hai capito? ci vuole questo equilibrio, ma l'equilibrio non è una cosa consigliata dal medico, è una cosa essenziale, hai capito? È un po' come ci vuole il pane ma che vuole anche l'acqua, cioè muori se mangi solo pane perché muori di sete e muori se bevi solo acqua perché muori di fame, hai capito? Vedi Italia, a me piace drink, tanto parlare di ste robe, della vita, di tutto, di qualsiasi cosa, sviscerarla, analizzarla e quando mi è possibile perché ovviamente anch'io come tutti ho le mie limitate capacità coglierne la verità delle cose. C'è sempre tanta paura secondo me, no? Magari non siamo perfettamente consci che c'è sta paura a scoprire la verità, a scoprire da soli, a muoversi da soli perché vedo a volte tanti discorsi, quante baruffe su cose anche estremamente, per me, cose estremamente semplici in cui la gente vedi che mai viene fuori un discorso non so, adesso ti faccio un esempio sciocco per stare nella parcondizio, se metti un'albicocca in frigo questa scoppia, ovviamente è un esempio estremo inventato, no? E allora vedi la gente che si scanna tra di loro perché c'è chi dice no, ma c'è uno studio americano che dice che l'albicocca se la metti così e no, non è vero, fin dai tempi più antichi si diceva che l'albicocca scoppia in frigo e in altro no, ma si è sempre fatto così non si mette l'albicocca in frigo ricordati che è un esempio inventato e arrivo io veramente spaventato da queste cose che dico ma porca puttana ragazzi ma siete cioè non siete ritardati mentali provate cioè sono cose che non costa niente cioè non è provare tipo secondo me se ti butti da 80 metri da un burrone ti spacchi le ossa no, là è meglio non provare ma sempre su questo esempio assurdo che ho inventato della bicocca in frigo cioè cazzo prova prova no la gente non non pensa cioè anche su qualsiasi cosa sia pratica che teorica quindi fisica e metafisica proprio la gente non vive non vive più e Italia questo è secondo me un grandissimo peccato perché è l'unica cosa ti garantisco che ci distingue dagli altri animali è proprio l'unica cosa perché tu dirai noi abbiamo il cervello più potente ma lì è un discorso di quantità un po' come dire non so uno fa i 10 all'ora l'altro fa gli 80 ok ma il discorso che ti dico io è che uno fa gli 80 e l'altro proprio non può muoversi non esiste lo spostarsi capito e quindi ragazzi quando io sento dire cosa è meglio cosa è peggio cosa è giusto cosa è sbagliato cosa è vero cosa è falso da persone che queste cose non le hanno mai sperimentate mi viene il panico oltre a dirgli prova cosa vuoi dirgli non capisco in fondo anche questo canale è nato con un prova si può vivere in camper si può lavorare dal camper si può lasciare un posto fisso per mettersi a lavorare in proprio e soprattutto quello che tanti grandi del passato hanno sempre caldeggiato seguire la propria passione ossia bisogna creare anche se al giorno d'oggi molto è cambiato ok perché non esistono più pittori musicisti poeti eccetera ma creare il lavoro sulla base della nostra passione nel mio caso la mia passione è il computer e devo dire web design mi dà moltissime soddisfazioni però anche lì prova cioè non sta pensare e indagini di mercato e menono mi ha detto questo e non c'è lavoro e ti pagano poco e ti pagano tanto ma cazzo prova cioè ripeto tutte quelle cose che non sono il burrone da 80 metri ok prova va